La storia d'amore tra Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagialli continua suollensales.vuole chiarire e sono convinto che se Lorenzo mi avesse conosciuto prima che non avremmo mai trovato la via del compromesso, sono una pausa, assoluta. Anche i primi giorni non erano sempli, i due non negano le difficoltà incrociate. I primi giorni non furono facili, dopo un po' non voleva più uscire con me, confessa che lo chef di fronte è sempre a mezzogiorno. Pensavo che Fabio Fazio fosse. E invece? Selvaggia Lucarelli, la frase più velenosa tutta la colpa dell'età. Va detto continua il commentatore e per anni il giudice di ballare con le stelle che avevo 40 anni e lui 25, così pochissimi. Ma sì, ovviamente ero intriso di stereotipi. Io avevo sempre visto in queste donne che hanno accompagnato il disperato tentativo di congelare la loro giovine 85. In breve, ritieni che il tempo sia un tema. Inoltre, dobbiamo spesso sederci al tavolo delle negoziazioni. Chiunque sia protetto, perché se ne va Selvagna Lucarelli, sparato contro Fabio Fazio ma non è tutto, perché sempre durante il primo anno, avevamo litigato furiosamente, tanto che avremmo dovuto partire per Atene con Leone e non l'abbiamo fatto, spiega Biagialli e poi siamo scesi e i dettagli sono stati i tre giorni peggiori della nostra storia. In poco tempo, tuttavia, tutto è tornato al noto e la settimana più tardi mi ha detto ho rimontato i biglietti per Atene. La sua tendenza alla sua mano mi ha colpito così tanto molto e oggi sono più vicini che mai.